ciao ragazzi sono caman e benvenuti a questo nuovo video oggi vi porto un video sulla nuova modalità mini royale di herbert island o alcatraz chiama tal come volete in cui giochiamo con diverse armi se non erro non mi sembra di aver mai preso tante volte la stessa sono tre partite super compressate perché sono molto veloci vi ricordo che se giochi in 40 e non c'è il ritorno automatico c'è il gulag quindi fare tante kill è abbastanza complicato ho fatto due partite in cui ho fatto un bel po c'è comunque erano 9 in entrambe se non ero forse una addirittura 10 sono un quarto di lobby non mi posso lamentare e concluderemo il video con una bellissima win effettuata alle 4 e 20 di notte il suo video ciao a tutti non c'è nulla una molotov signori per darmi fuoco a me stesso il lancio mi sembra molto un lo puoi prendere se sei morto italiano riperone potevo farglielo prendere lo d'auto almeno di un culo non c'è un po' di merda giucciami le palle schifo di merda giucciami le palle schifo di merda ah ma costa 7000 oh mio dio ho preso la variante di di rovazzi c'ha il mirino un po' merdoso chi è il pazzo che tira il drone con questa modalità posso avere così tanta caga di girare gli angoli perchè ci sono i camper dappertutto geniale l'idea di usare il drone no? ho detto io che non è data in merda ti ho avvertito però eh scusatemi quattro persone alla nuova zona sicura tornata gli ho tirato e niente pushare senza piastre è veramente geniale a me no devo mi pushare sempre devo sapersi dove fossi peccato ancora non ce l'abbiamo fatta scura in blanca alleato in arrivo Ma cazzo l'ha uscito questo io? O ti butti o ti butti ma... Ma è uscita evasione su Rebirth così piccola Cioè il macello Non è uscita evasione, nemico, al riparo! Nemico in discesa nell'area operativa Oh mio Dio che cazzo di gunpointorinto non ha senso Non mi ha visto Non mi ha visto Nel caso uscirà un video Boomer No, 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 ti giuro, cioè Questo è scudo e... Spade... Lì, no spade, i bastoni Si è fatto distruggere, giuro Ma ci ho fatto il FUNZ2 Non mi ha visto Non mi ha visto Cazzo in arrivo, nuova zona sicura contrassegnata Non mi ha visto Ma perché ho pushato sopra? Perché ho pushato sopra? Perché ho pushato sopra? Perché ho pushato sopra? Carmi! Carica sto cazzo di affipar! Mi sfondo uomo! Ma è un po' il suo mv Cioè il suo mv da vicino scioglie Eh appunto da vicino ma è un assalto Ecco infatti Mi sfondo uomo L'ho ucciso con una scarica di diamante Vabbè è bello quel punto non ci sarà nessuno no no Oddio godo Quanto godo Oh lo sta cam... no sta volando spero No C'è delle piastre... oh si Come ha fatto ti prego ero sotto da due ore Darmi l'amma giusta ti prego Dove è andata la granata Madonna... che brocco Che brocco Oh potere d'arresto Mi fa ridere la gente che trova potere d'arresto e non lo carica Mi fa troppo veramente ridere Se lo tiene lì per bellezza Ma io sto qua è un punto di cristo Soldato nemico in arrivo Tempo scaduto Obiettivo fallito Attenzione uovo Unificato per fare ricornimento Back to back questo qua Oddio se mi cominciamo ora muoio Dove è andato? La gente... su sto cazzo di modalità la gente al posto di diminuire aumenta No 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 ti prego Tutto a posto Bella ragazze Ma come sono qua in due Se mi pusciano dal lato muoio cristo Oh c'ho una zona incredibile E non c'è qualcuno dietro però C'hanno tutti i fantasma cazzo Sono l'unico pirla senza fantasma Questo potrebbe essere un problema Non ho nemmeno le piastre Provo a fare un certo lo shop Questa quasi vai Pazia pura vi prego non uccidetevi No 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 Ok Eccone 1 2 Ma stanno facendo teaming Questa volta non riusciva mai fare 1 v 1 Non so dove cazzo è adesso Chiaramente mi sono fatto spottare facendo così Dove cazzo è? Giuro che non lo trovo Questo qua c'è qua sotto da qualche parte Sì Andiamo il camperone ce l'avevo praticamente sotto di me Cioè ero tipo su una statua Cioè il volo di una statua lui era sotto E non lo vedevo Andai vincita Vincita Ci ho messo 3.000 ore per vincerne una Cazzo ce lo fai Senza fantasma L'unico nella lobby senza fantasma giuro Cioè l'unico nel game Gli ultimi 7 tutti avevano fantasma tranne me 9 40 persone vuol dire che ho fatto un quarto della lobby Potere del resto mi ha durato tutta la partita mi ha durato Potere del resto assurdo Da quello sfigato che ti dicevo che ce l'aveva e l'ha usato Oppure ucciso lui con il suo potere del resto perché è tornato a prendersi lo stesso cazzo di coso giustamente Ed era davvero sotto la statua che schifo cazzo che schifo Fa niente dai ce l'abbiamo fatta lo stesso Meno male che quel Casto non è riuscito a mettermi i bastoni tra le ruote Tra l'altro non so da quanto tempo fosse lì sotto Meglio non saperlo forse Vi ricordo che sono in live stream su twitch Ogni sera praticamente Sì ogni sera Trovate il link in descrizione anche per il mio instagram Comunque sono entrambi tfz-kaban Passate a salutarmi Fatemelo sentire il vostro supporto Con un'iscrizione Un like e un commento qua sotto Ciao a tutti